Musica Benvenuti al nostro TG Sport cari amici di Telemolise. In apertura campionato di Serie D ripresi gli allenamenti per il campo basso dopo il successo meritato contro il Giulianova. I rossoblù preparano la gara casalinga con la Folgore-Veregra. Per ora si parla solo di mercato in uscita, ma stamattina il direttore generale Marco Meo ci ha garantito che entro la fine della settimana ci saranno i primi rinforzi. Il campo basso pensa al campo, ma anche e soprattutto al mercato dicembrino, momento delicato in chiave ricostruzione dell'organico. Per ora registriamo soltanto un ingente mercato in uscita che fa registrare a sua volta otto divorzi che non saranno certamente rimpianti dalle parti del capoluogo. Si tratta di Boldrini, Bucchi, Censori, Dimas, quest'ultimo ufficialmente via ieri sera, Carminucci, Sant'Angeli e Fiore. Quest'ultimo sarebbe ricercato da società di Lega Pro come L'Aquila e Catanzaro. Lo stesso Ander Cianci farà le valigie per accasarsi ad una destinazione probabilmente marchigiana. Verso la fine di questa settimana si registreranno interventi anche in entrata. La mano più pesante sarà sul centrocampo e attaccola dove ci si aspetta un paio di innesti per reparto. La difesa, tuttavia, dovrebbe rimanere inalterata avendo trovato una certa quadra. La vittoria di Giulianova ha portato punti e morale ma soprattutto ha palesato anche caratteristiche che da tempo non si vedevano da parte della squadra rosso-blu come l'umiltà, il cuore e la grinta che dovrebbero essere sempre erogative di una squadra di calcio ma che in casa rosso-blu sono stata merce rara per tutta la prima fase del campionato. I lupi affronteranno probabilmente con un volto diverso la folgore veregramontegranaro a Selvapiana, squadra neopromossa nel campionato di Serie D. Gli stessi marchigiani dovranno recuperare domani pomeriggio all'Angelini di Chieti il quattordicesimo turno di campionato che non si giocò a suo tempo per impraticabilità del terreno di gioco di Chieti. Tra gli elementi più interessanti della folgore senza dubbio l'attaccante Saverio Pedalino che pare avere proprio il campo basso come bersaglio preferenziale. L'anno scorso infatti con la maglia della Fermana segnò ai rosso-blu due reti tra girone di andata e quello di ritorno. Lo stesso Pedalino ha realizzato un bottino discreto di 7 gol in 11 giornate con il Monte Granaro. Da tenere sotto osservazione anche l'attaccante Ander Naziconi, autore finora di 3 gol. Tornando al campo basso ascoltiamo l'attaccante Aquino che ci confessa tra le altre cose come sia stata particolare per il campo basso la settimana che ha preceduto la sfida di Giulianova. Che settimana avete vissuto prima poi della vittoria di Giulianova? Sì, una settimana un po' strana diciamo perché ci sono state delle partenze e a livello umano dispiace sempre perché a livello di gruppo ci trovavamo benissimo. Sì, però sono stati anche loro a voler andare via diciamolo. Sì, è stata una scelta loro, penso quasi per tutti. Però dispiace lo stesso. Penso di aver, anche se non abbiamo lavorato al 100%, però penso che oggi si è visto, abbiamo cercato di dare il massimo e sono arrivati i tre punti come quelli che cercavamo da molto. Adesso praticamente sei arrivato in estate da comprimario in un attacco importante adesso ti ritrovi a titolare inamovibile. Questo ti assegna maggiori responsabilità? Al momento sì, sicuramente, ma sono abituato quindi mi fa piacere avere tutte queste responsabilità e credo di riuscire pure a giocare meglio avendo un po' di responsabilità in più. Quindi mi sono sempre allenato al massimo per cercare di guadagnare un posto di tolare. Fortunatamente, anche con la partenza di Andrea, al momento sì, sto giocando più continuamente. Prepara la trasferta di Monticelli-Lisernia, buono l'esordio dei nuovi acquisti bianco-celesti nel post-gara con il Castelfidardo. Abbiamo intervistato il capitano Nicola Panico. Panico, altra buona prestazione per Lisernia, soprattutto altri tre punti importanti portati a casa qui a Lancellotta che ormai è il vostro fortino. Sì, in casa abbiamo più punti di tutti, più punti dell'Assemblea dell'Ettese che prima, più punti di tutti. Abbiamo perso una sola partita con l'Assemblea dell'Ettese in 9 contro 11 avendo due calci di rigore contro. Se giocassimo sempre in casa, a questo punto saremmo a più 10 dalla seconda. A questo punto possiamo dire che è proprio la spensitatezza dell'Isernia l'obiettivo di inizio campionato di raggiungere una salvezza tranquilla che vi sta facendo più che bene. Sì, in realtà questa salvezza tranquilla, inizio campionato era una salvezza stenta. Poi per fortuna abbiamo fatto subito gruppo, quello è stato il nostro segreto. Abbiamo cambiato poco, lo staff è sempre quello, 4-5 giocatori sono rimasti e poi sono venuti soprattutto gente affamata, quello che si vive segna perché magari altre squadre hanno i nomi, hanno il budget magari più elevato però noi abbiamo la fame e l'attaccamento alla città e alla maglia. In queste categorie è un po' difficile trovare. E questo è che fa la differenza? Sì, sono d'accordo. Oggi pure il stesso Pasquale Fontana ha fatto 100 partite con l'Isernia e voglio ancora rimarcare una volta l'impresa fatta l'anno scorso non solo da quelli che siamo rimasti, ma anche dai ragazzi che sono andati via e grazie a loro l'Isernia ora nei play-off in Serie D e continuo a sognare. L'Olimpia agnonese dopo la trasferta di San Benedetto dovrà affrontare un altro viaggio domenica Granata ospite del San Nicolone, la trasferta a Riviera delle Palme l'unica nota positiva la rete di Marolda che guida la classifica dei marcatori del Girone F con 11 reti insieme al molisano Andrea Sivilla del Fano. In campo domani Chieti e Folgore e Veregra per recuperare la quattordicesima d'andata rinviata per impraticabilità dell'Angelini. Stagione importante per la Juniores del Campobasso, oltre al successo nel derby con l'Isernia è arrivata anche la vetta della classifica e il commento di mister Rienzo. Carmine Rienzo, dunque il derby lo vincete voi 2-0 contro l'Isernia, è stata comunque una partita combattuta, una partita complicata contro un ottimo avversario? Sì, una partita che sapevamo che era dura, una partita devo dire innanzitutto correttissima, giocata agonisticamente ma corretta, quindi un vero derby tra due squadre che stanno ben comportandosi nel Girone Juniores. Sapevamo la difficoltà di questa squadra, anche le difficoltà nostre che sono venute all'ultimo momento, però i ragazzi sono stati bravi, continuo a dire che è un gruppo di 20 ragazzi eccezionali. Ecco, l'ho detto anche in cronaca, dopo il gol dell'1-0 avete badato proprio al sodo in difesa, va detto, cercando di colpire in contropiede, così è stato, ma devo dire che i ragazzi evidentemente hanno capito l'importanza della partita per tanti motivi, mettiamo qualche assenza, mettiamo perché era un derby, però voglio dire che questo è sicuramente un fattore positivo e di crescita per voi. Sì, sì, vabbè, noi oggi abbiamo un avversario di fronte che era duro, quindi abbiamo detto all'inizio non pensiamo di fare gli scienziati o di essere più bravi, perché non ci siamo più bravi, loro sono bravi ugualmente come noi, quindi ho detto ai ragazzi di stare tranquilli, innanzitutto di mantenere il risultato, perché il primo tempo non abbiamo giocato bene, forse siamo stati tesi e abbiamo giocato meglio il secondo tempo, però alla fine sono stati bravi combatti, abbiamo avuto due o tre occasioni per chiudere definitivamente la partita, è un ottimo risultato contro un'ottima squadra. Ecco, infine restate sempre nei piani alti della classifica, praticamente a ridosso della fermana, c'è stata quella partita di sabato scorso dove vincevate 2-0, c'è stato anche qualche episodio contrario, ci sarà la partita in trasferta contro la Folgore Veregra, a quel punto si sarà chiuso il legione d'andata. Sì, vabbè, ora dobbiamo aspettare il risultato, perché oggi c'era San Benedettese e Fermana, quindi siamo stati, là devo dire onestamente, siamo stati penalizzati dall'albitraggio, io non lo dico mai, però due episodi netti, due cose nettissime, un rigore sacrosanto e una palla dentro non vista, che non ho capito per chi, però ho detto, è un punto che comunque all'inizio ci aveva messo la firma per il punto, stiamo andando, stiamo proseguendo bene, con, anche oggi abbiamo dimostrato senza l'assenza di, con l'assenza di perrelle, di, di vanno da versati, comunque di essere bravi là davanti. Ciclismo sabato, il circolo della vela di Termoli ospiterà la festa del ciclismo regionale, alle 16.30 si svolgerà la classica cerimonia di fine stagione, organizzata dallo staff del presidente Belpulsi. Calcio giovanile, l'Ermes Toro ha scelto di ripartire dai più piccoli, la scuola calcio rosso-nera, riesce a coinvolgere i bambini anche dei comuni limitrofi, ne abbiamo parlato con Quicquaro. Santo Quicquaro, allenatore degli esordienti della polisportiva dell'Ermes Toro, è partito quest'anno questo nuovo progetto che pone le fondamenta proprio per l'appunto tra i ragazzi di Toro e dei comuni limitrofi. Sì, è un bel progetto e anche se, ecco, allenare i bambini di questa età di 10-12 anni è un tantino più difficile, almeno per la mia esperienza, è difficile molto, come posso dire. Bisogna unire sia la parte tecnica quindi, ma anche un poco di agonismo che a quest'età comunque inizia un po' ad uscire fuori nei ragazzi, quindi bisogna gestire tanti fattori. Certo, perché molti di questi bambini non sono neanche pronti, probabilmente gli mancano proprio le fondamenta del calcio. Comunque è una bella esperienza e sono felice di poterla fare e modestamente, con il mio modesto contributo, cerco di aiutarli a portare avanti un progetto come questo dell'Ermes Toro con i bambini. Importante anche l'impiantistica sportiva, qui a Toro avete una palestra al chiuso che quindi vi permette di fare attività 365 giorni l'anno. Sì, abbiamo una bella palestra dove poter allenare questi ragazzi, sì, abbiamo tutte le strutture per poter far bene. Poi a Toro c'è anche una lunga tradizione di sport, di calcio in particolare, l'obiettivo è proprio quello di far crescere i ragazzi del posto per farli arrivare un domani per l'appunto nella prima squadra. Ricordiamo fino all'anno scorso l'Ermes Toro era nel campionato di promozione poi per un discorso contingente e anche ha dovuto rinunciare. Sì, l'obiettivo è ripartire con i giovani. Oggi i campionati di promozioni, promozioni di eccellenze, insomma, costano tanto, ci vogliono tanti soldi. Quindi si è scelto di partire con i ragazzi e sono quasi tutti di Toro per poterli portare su e portare comunque avanti quello che è la storia dell'Ermes Toro, insomma, portarla avanti fino a più lungo possibile. Quanto è importante lo sport per una piccola comunità anche come Toro? Questo riesce a mantenere diciamo così, vivo anche il paese durante tutto quanto l'anno. Ma la cosa importante per questi ragazzi è tenerli, ecco, avvicinarli allo sport. Questa è la cosa più importante. Che possa essere il calcio, che possa essere la palla canestra o la palla a volo non è che abbia poi tanta importanza. Intanto è partire e tenere questi ragazzi, questi bambini e avvicinarli molto, molto allo sport. Così, non so, non trovano altre strade, insomma. È importante avvicinarli allo sport e farli vivere una situazione sociale un po' più piacevole. La Molise Tour Bike del presidente Giuseppe Gennarelli ha programmato una gara a circuito di mountain bike a Cuglionesi. L'itinerario è ricavato interamente nei vicoli del centro storico. Il percorso prevede una parte di fuori pista, gradoni e altre difficoltà. La gara in programma è il prossimo 20 dicembre. Campionato d'eccellenza si giocherà a Campomarino la gara di ritorno dei quarti di Coppa Italia tra Termoli e Venafro si riprende dal 6 a 0 per gli ospiti. A proposito del Termoli, domenica la squadra è scesa in campo a Nuova Cliternia dove ha portato a casa un buon 0 a 0 a proposito della formazione giallorossa Zotti. Gianluca Zotti, un onore sicuramente per te indossare la maglia del Termoli, sei stato tesserato in fretta e in furia. Già l'anno scorso giocavi in una squadra termolese che è il San Pietro, però hai lasciato una squadra giallorossa che è l'Ururi per andare al Termoli. Alla fine sei andato anche in campo, sei stato uno dei più vispi, però avevi dei compiti di mantenere più la linea difensiva. Sì, sicuramente per me è un grande onore investire la maglia del Termoli, però saluto tutti i miei cari amici di Ururi che oggi affrontavano il Chieuti, spero in una loro vittoria. Senti, è stata una partita difficile contro la Cliternina, soprattutto perché voi eravate tanti e troppi ragazzi in campo. Partita difficile visto il momento brutto del Termoli. Noi siamo vicino a questa maglia e cercheremo sempre di scendere in campo con la grinta giusta. È vero che alla prima chiamata non hai rifiutato e hai detto subito arrivo, immediatamente hai firmato per il Termoli. Subito, non ci ho pensato due volte di andare in questa grande società e lì stiamo tutti accanto come i miei compagni. Senti, avete un compito difficile, quello di portare avanti questo discorso calcistico perché non è facile, però dall'impegno che ci avete messo vuol dire che farete tanto per questa maglia e per questa squadra. Sicuramente, basta soltanto un po' di tempo per riorganizzarci e completare definitivamente la rosa e poi saremo come prima. Torneo di promozione, tre punti che fanno morale classifica per il Castel Mauro. Il commento è affidato al direttore sportivo. Pino Troglio, direttore sportivo del Castel Mauro. Castel Mauro che torna a vincere dopo tre sconfitte consecutive lo fa finalmente in casa. Uno a zero. Vittorio che fa morale, punti e classifica. Certamente. Oggi è una partita molto importante per noi, soprattutto per il morale e anche per la classifica. Siamo riusciti a vincere finalmente una partita in casa, che è la seconda. Abbiamo fatto una discreta partita, questo fa molto morale allo spogliatoio e voglio ringraziare i ragazzi che oggi hanno dato veramente l'anima sul campo. Ci siamo un po' rinforzati anche in attacco, abbiamo preso un ragazzo Ferrante che poi, se è visto, è entrato il secondo tempo, ci darà sicuramente una buona mano, un po' di allenamento in più, un po' in fase tecnica e atletica e quindi ci può dare una mano. Quindi penso che siamo sulla buona strada. Quando è stato importante non prendere gol, una squadra che si è difesa comunque con ordine, anche se l'FVP Mati si è provato a mettervi in difficoltà? Io, come dico sempre, il nostro problema non è la difesa. Anche se noi abbiamo preso delle partite, è sempre il problema che non segniamo davanti, alla fine il gol te lo fanno. La difesa va benissimo, non c'è niente da ritoccare. La squadra gioca bene, l'unico handicap che abbiamo avuto e forse lo stiamo risolvendo è sempre l'attacco che non riusciamo a mettere dentro la palla. Oggi ci siamo riusciti e abbiamo vinto la partita, anche soffrendo un po', però tutto sommato fa parte del gioco perché la squadra che perde alla fine ci sta sempre il ritorno. Sono previsti nuovi arrivi dopo Ferrante e sono previsti nuovi arrivi sul mercato dopo questi primi elementi nuovi? No, nuovi acquisti sicuramente non ci saranno. Noi abbiamo perso Luciano che se n'è andato, ha fatto la sua scelta, andrà a giocare in qualche altra società, ma incanto lui abbiamo preso subito un altro attaccante al posto su, che penso che ci farà sicuramente la differenza da fondo. Noi ci fermiamo qua, noi dobbiamo salvarci, andremo avanti con queste forze che ci abbiamo che poi secondo me abbiamo un buon collettivo da salvarci. Noi la società ci crediamo e andiamo avanti così, anche perché economicamente noi non è che ci possiamo permettere delle spese pazze, noi andiamo alla giornata, quindi va bene così, la squadra come sta, senza ritocchi. andiamo a fare le nostre partite, soprattutto fuori casa, poi in casa cerchiamo sempre di vincere le partite, poi se è quello che avviene di più, quando andiamo fuori casa è tutto un guadaglio, però la squadra rimane sempre così perché la squadra non ha bisogno di rinforzi, per una squadra che si deve salvare, questa è la base. Una gara ben giocata da entrambe le formazioni, Spinete e Ielzi hanno diviso la posta in palio a margine del match, abbiamo intervistato il tecnico Rossi. Siamo con Massimiliano Rossi, allenatore del Boise Ielzi, mister, un pareggio tutto sommato giusto dopo un primo tempo abbastanza soporifero, tranne quel gran jolly trovato dall'appena entrato Marcello D'Urso, poi in secondo tempo equilibrato, tante occasioni da entrambe le parti. Analisi perfetta, hai visto molto bene la partita, mi fa piacere perché a volte si commentano partite dicendo delle nefandezze clamorose, noi oggi siamo venuti qua sapendo di affrontare un'ottima squadra, ne veniva da due vittorie fuori casa, noi stiamo in un buon momento di forma ma credo che difficilmente faranno punti su questo campo, un campo piccolo, difficile, loro ben messi in campo, squadra rognosa, siamo andati sotto, abbiamo avuto la forza di ribaltare. Sì, Marcello D'Urso è entrato, entra sempre con il piglio giusto, oggi non è partito titolare per un piccolo problema, ma è uno che mette sempre il cuore oltre l'ostacolo, ha inventato un jolly, da sottolineare che lo fa spesso insomma, anche a Petacciato ha fatto un gol molto molto simile, ma devo fare solo un applauso ai ragazzi perché ancora una volta abbiamo lottato e abbiamo portato penso un punto che per noi in questo momento è fondamentale. Fondamentale, questo è il quarto risultato consecutivo, comunque la classifica da neopromossa vi sorride ancora, siete ancora nella metà, posso dire alta della classifica. Per il momento ci godiamo questa posizione ottima in classifica, noi siamo partiti come principale obiettivo è la salvezza, abbiamo ad oggi 24 punti, la miglior difesa di tutto il girone, una squadra neopromossa, il primo anno che fanno la promozione, squadra giovane ma veramente lottano su tutti i palloni, quindi questo è il frutto di un grosso lavoro, noi lavoriamo sempre in maniera maniacale, cerchiamo di curare i dettagli, abbiamo cercato di preparare ancora una volta bene questa partita ed è il risultato che ad oggi, ripeto, questo punto ce lo teniamo ben stretto. Domenica giochete in casa contro il Castelmauro nel vostro fortino visto che state avendo grandi risultati soprattutto negli anticimi in casa vostra. Assolutamente, giochiamo di sabato in casa col Castelmauro, partita da non sottovalutare assolutamente perché ogni partita per noi deve essere una finale, noi dobbiamo raggiungere quanto prima la quota salvezza. È un campo dove altri incontrano difficoltà, è un terra abbattuta, però veramente è il nostro fortino, io lo dico sempre, assolutamente. Atletica a fine settimana di gare successi per i podisti molisani. Paola Di Tillo, gruppo sportivo Virtus, ha vinto la sesta edizione della mezza maratona Città di Monopoli nella 26esima edizione della Best Women, Roberto Brancatelli ha chiuso il tracciato in 36 minuti e 36 secondi, classificandosi primo tra gli M60. Marciano Pilla, il migliore dei molisani in gara, la seconda edizione della Corriamo a Saviano 35-38, il tempo che lo ha portato a salire sul gradino più alto del podio per la categoria M50. Calcio a 5 di serie C1, buon punto in rimonta del Sant'Elena con il circolo La Nebbia. Terriaca ha commentato con noi questo pareggio. Federico Terriaca, allora una partita incredibile quella che si è vista oggi, sembravate morti a due minuti alla fine, alla fine avete anche rischiato di vincere l'incontro. Sì, sicuramente, penso che oggi abbiamo dato per l'ennesima volta, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che siamo una squadra quadrata, una squadra che non lascerà nulla al caso in nessuna partita, che ce la giocheremo sempre con tutti. La partita ha sempre sembrava finita, ma non è stato così. Anche quando stavamo sotto i due reti ci abbiamo venuto fino alla fine e abbiamo sferato il colpaccio, percato per il palo finale. Cosa hai pensato? Quando hai colpito il palo? Meglio che non lo dico adesso, andiamo alle telecamere. Scherzi a parte, te l'ho detto, ci credevamo fino alla fine e la palla sinceramente l'ho vista dentro perché è andata sul palo interno, però è andata male. Purtroppo non è la prima volta, sono molto rammaricato perché anche a Bonifro è successa la stessa cosa. Stavamo pareggiando 2-2, proprio sui piedi è capitata una palla al limite dell'aria e è andata allo stesso modo. Tutte e due palo interno, peccato perché anziché 2 punti sarebbero stati 6. Però bisogna anche dire che il circolo della nebbia ha giocato una gran partita, insomma il punto poi, tutto sommato, se andiamo a rileggere il film della gara mi sembra che sia giusto. Beh sì, sicuramente non devo dirlo io, diciamo, il valore del circolo della nebbia è noto a tutti. Ho avuto il piacere di giocare tanti anni, con questi per me sono amici, quindi ripeto, la squadra del circolo della nebbia è di valore assoluto e li faccio i miei migliori in bocca al lupo. Adesso vediamo i risultati che sono maturati in seconda categoria. Seconda categoria, Gironia, nona giornata di campionato. Castel di Sangro, Real Carceres 3-1, Longano, Fossaceca 1-3, Masseria La Corte, Montenero 0-3, Miranda, Valle Agricola 0-2, Monteroduni, Macchiagodena 4-0, New Caseles, Ala Fidelis 4-0, Nuova, Rionero, Sporting, La Pietra 1-4. Nel girone A, al comando, a quota 20, Cella, Fossaceca, segue a 18, Monteroduni 17 per il Montenero, a 16, Valle Agricola, ultimo con solo i due punti, Longano. Girone B, della seconda categoria, decima giornata, Atletico San Pietro in Valle, Mundi Mitar 4-1, Castropignano, Bagnolese 2-1, la seconda Baranello, Torella del Sagno 5-5, Ferrazzano, Mafalda 1-1, Sant'Angelo, Ratino 1-1, Salcito, Sepino 9-2, Sporting, Torella, Chiauci 0-4, ha riposato in Rocca, Vivara. 25, Chiauci 23, Ferrazzano 21, Mafalda a 20, Cella, Atletico San Pietro in Valle, ultimo a quota 0 il Sepino, questa la classifica del girone B. Girone C, decima di andata, Campo Basso Calcio Reds 1-0, Gruppo GSM, Campolietro 4-0, Guardia Alfiera, Mucsufuni 3-2, Matrice, Montagano Petrella 0-1, Real Gambatesa, San Giovanni Ingaldo 3-4, Ripabottoni, Casali Dauni 4-2, Sant'Angelo Limosano, Audax, Toro 1-3, ha riposato la polisportiva Calena. In testa al girone C, a quota 24, il Real Gambatesa, segue a 20 il Campo Basso Calcio, a 18 troviamo il Ripabottoni, a 16, Gruppo GSM, Audax, Toro, ultimo a quota 2, il Mucsufuni. Bene, è tutto per questa edizione del nostro TG Sport. Buon pomeriggio! Bene, è tutto per questa edizione del nostro TG Sport. Buon pomeriggio!